allora vi presento una nuova scarpina che ho realizzato in questi giorni da neonato con il cotone questa volta visto che adesso siamo in estate per fare un progetto un pochino più estivo e pochino più fresco visto che le altre sono tutte in lana ovviamente la potete realizzare anche in lana non cambia niente l'ho fatta proprio per farvi vedere un altro modo per poterle fare c'è già il mio tutorial quello delle scarpine trilli dove iniziamo dal polsino e poi scendiamo giù con questo tutorial invece io voglio farvi vedere un'altra tecnica che è quella partiamo dalla suoletta e poi facciamo tutti gli aumenti fino a arrivare al polsino quindi al contrario e viene più o meno viene uguale è solo diversa la tecnica perché è contraria all'altra e l'ho fatta utilizzando il fiocco di cotone di filati discount che è un 100 per cento cotone da bambino lavabile in lavatrice restringibile molto molto morbido e liscio veramente un bellissimo filato è leggermente lucido è molto bello veramente con i colori rende molto bene e non fatto io vedete utilizzando il filato sfumato e anche un filato in tinta unita in modo da fare la suoletta e il sopra in tinta unita e il resto sfumato in questo modo io poi dopo farò anche il cappellino e la copertina spero di riuscire a farli entro l'estate e questa qui all'altra che avevo realizzato la trilli che ho realizzato è fatta con i ferri un pochino più grandi questa la farò con i ferri del 3 in modo da venire vedete viene una lavorazione bella compatta che mi piaceva provarla che con i ferri del 3 visto che spesso mi chiedete anche ferri del 3 in questo modo potrete avere la misura appunto anche dei ferri del 3 questa qui è una misura neonato vedete il piedino proprio piccolo del neonato poi sulla mia pagina alla fine di questo video e anche nella descrizione del video stesso troveri trovate il link alla mia pagina con lo schema completo e tutte le istruzioni per farlo e ve lo farò anche nella misura un pochino più grande se la volete appunto per averla leggermente più grande però questa appunto è la misura questo che vi farò vedere adesso è la misura 0 3 mesi quindi il neonato proprio ok quindi io ho avviato 25 maglie quindi io lo considererò questo già come giro numero uno e partirò dal giro numero due che sarà un giro a rovescio io preferisco contare pari i giri a rovescio per questo motivo io questo lo conterò come giro numero due perché è più difficile sbagliare se ci diamo una regola quindi il giro numero due semplicemente lavoreremo tutte le maglie che che abbiamo caricato sul ferro le lavoreremo tutte a rovescio ecco qua lavorate tutte a rovescio il giro numero tre iniziamo subito con gli aumenti che faremo su tutti i giri e lo faremo in questo modo allora un dritto qui non facciamo vivagni sulla suoletta perché mi servono tutte le magline che abbiamo quindi tutti i punti che abbiamo mi servono gli aumenti li farò con i gettati che poi lavorerò a dritto ritorto nel giro successivo quindi un dritto un aumento un gettato poi faccio 11 dritti quindi facciamo 11 dritti se volete potete mettervi dei marca punti ma sono talmente pochi giri che è meglio contarli che è anche un modo appunto per controllare di non sbagliare con 11 dritti poi facciamo ancora un gettato un dritto e un altro gettato questa sarà la punta un dritto e poi 11 dritti sull'altro lato quindi perché noi stiamo lavorando la suoletta aperta ovviamente l'andremo poi a cuscire al centro con una cuscitura invisibile ecco qua poi ancora un gettato e un dritto e questo è il giro numero tre il primo giro con gli aumenti adesso li faremo anche sugiri a rovescio gli aumenti e ogni volta avremo una maglia in più all'inizio e due in più al centro è semplice con questo schema di aumenti adesso vi faccio vedere quindi quindi lavoreremo due rovesci anche se il secondo vedete è il gettato quindi perché non ci venga un buco lo lavoriamo a dritto ritorto anche se siamo sul rovescio quindi dritto ritorto poi riporto il filo verso di me e scusate quindi un dritto un dritto ritorto poi il gettato che sarà il nuovo aumento quindi passo il filo sopra e lo riporto davanti poi lavoro 11 rovesci quindi fatti gli 11 rovesci arriviamo al gettato prima di lavorare questo gettato facciamo un nuovo aumento quindi gettato ancora quindi vedete lo passiamo sopra non lo riportiamo davanti perché dobbiamo lavorare questo a dritto ritorto quindi lo lasciamo dietro lavoriamo a dritto ritorto questo che c'era poi lo ripassiamo verso di noi un rovescio e qui ancora abbiamo l'altro aumento quindi l'altro gettato quindi ripassiamo vedete il filo dietro e lo lavoriamo a dritto ritorto ecco qua e poi facciamo un nuovo aumento vedete in questo modo noi dobbiamo avere il gettato i tre rovesci e il gettato cioè le tre maglie lavorate e il gettato questi sono gli aumenti per il giro dopo dopodiché ripassiamo il filo sempre verso di noi e facciamo i nostri 11 rovesci che è il fianco del piedino che questi non cambieranno mai quindi 11 rovesci ecco qua anche qui siamo arrivati prima del gettato quindi facciamo il nostro gettato nuovo nuovo aumento e poi lavoriamo e poi nuovo aumento e poi lavoriamo sempre a dritto ritorto fate attenzione teneteveli fermi con il dito perché non vi scappino soprattutto i primi giri ecco qua lavoriamo il primo a dritto ritorto poi riportiamo il filo verso di noi e un rovescio l'ultima maglia ecco qua lavoriamo in questo modo quindi tutte le maglie adesso giriamo il lavoro e facciamo l'altro giro a dritto quindi adesso avremo una maglia in più all'inizio come abbiamo avuto di là quindi ne faremo una due dritti e la terza che però come è l'aumento di prima lavoriamo a dritto ritorto quindi tre sono i nostri tre punti poi il nuovo aumento e le nostre 11 solite maglie quindi 11 dritti ecco qua 11 dritti vedete queste sono sempre le solite 11 quindi sotto non c'è nessun aumento ci troviamo prima dell'aumento quindi anche qui facciamo prima il gettato quindi il nuovo aumento e poi andiamo a lavorare a dritto ritorto la prima cioè il gettato del giro precedente poi avremo ancora una due tre dritti e l'altro aumento sempre a dritto ritorto quindi saranno vedete questo è il gettato poi avremo cinque maglie che sono la punta e il nuovo gettato e poi i nostri 11 ecco qua 11 dritti poi facciamo il gettato quindi il nuovo aumento poi qui abbiamo il gettato del giro precedente che lavoriamo quindi a dritto ritorto e poi ancora due dritti per finire il giro ecco qua quindi giro a rovescio uguale quindi continueremo a fare i nostri aumenti quindi giriamo sul rovescio e facciamo adesso l'ultimo giro della soletta poi abbiamo già finito quindi vedete che è velocissimo quindi l'ultimo aumento quindi facciamo sempre rovesci quindi 1 2 3 questa volta saranno 4 però ovviamente il 3 rovesci il quarto sarà sempre il nostro dritto ritorto perché è l'aumento del giro prima quindi 4 il nostro gettato poi sempre 11 rovesci quindi 11 rovesci un gettato sempre rimaniamo dietro lo facciamo come se fosse un normale dritto e poi lavoriamo a dritto ritorto quindi il gettato dico come se fosse a dritto quindi il primo a dritto ritorto riportiamo il filo davanti adesso ne avremo 1 2 3 4 5 rovesci perché adesso saranno sette nella punta però il settimo primo era il dritto ritorto e anche l'ultimo dritto ritorto quindi filo nuovamente dietro lavoriamo a dritto ritorto e poi facciamo l'aumento e poi riportiamo il filo verso di noi 11 rovesci anche su questo lato 11 rovesci poi il nostro gettato poi rimango con il filo dietro per fare il dritto ritorto sopra il gettato del giro precedente quindi un dritto ritorto sopra il gettato riporto il filo verso di me e le ultime tre rovesci quindi 123 rovesci finita la soletta adesso ci portiamo facciamo il bordo questo bordo qui con se lo volete fare con lo stesso colore oppure appunto come ho fatto io con un altro colore in modo da fare la maglia legaccio allora il primo giro lo faremo a dritto quindi ovviamente se utilizzate questi filati sfumati vi verranno diverse le due scarpine vedete io adesso sono sul verde quindi questo mio questa questa mia striscia da questo quest'altra scarpina verrà questi colori qua quindi verrà più chiara potete o andarvi a ricercare la sfumatura vedete qui era all'inizio del verde che poi diventa azzurra oppure lasciate fare così che diciamo che è il suo bello che venga un pochino irregolare in questo modo se vi piace ovviamente allora per attaccare il nuovo filo io faccio vedete un nodino così lasciando il codino poi per nascondere il filo sopra il filo che sto utilizzando e lo faccio scorrere fino al ferro in questo modo non si slargerà la maglia tenete in tirare questo e in tirare questo e facciamo adesso 10 giri ovviamente poi vi si riallargerà ma questo poi quando andremo a nascondere i fili lo sistemeremo quindi lo lavoriamo il primo giro tutto a dritto tutte le maglie le lavoriamo così normalmente a dritto tutte queste maglie che abbiamo in questo momento sul ferro poi vi dirò quante sono mi raccomando vedete questo è l'aumento quindi questo ricordatevi la prima volta andrà lavorato comunque a dritto ritorto per evitare il buco non facciamo altri aumenti ma li lavoriamo adesso tutte le maglie così a dritto normale ricordandovi sempre mi raccomando di lavorare i gettati vedete a dritto ritorto quindi gli aumenti del giro precedente lavorateli a dritto ritorto il resto tutti i dritti normali e gettati a dritto ritorto vedete in modo da avere questo risultato vedete senza buchi di questo lavoro tutto a dritto così quindi non fate gettati in questo giro perché non avremo aumenti ecco qua questo è il primo giro del del bo di questo bordo qui laterale saranno 41 maglie in tutto 41 quindi adesso queste 41 maglie noi le lavoreremo sempre a dritto quindi anche sul rovescio le lavoriamo a dritto perché facciamo la nostra maglia legaccio e in tutto faremo 10 giri quindi 10 giri lavorando sempre a dritto tutte le maglie e adesso alla fine di questo giro vi faccio vedere anche come portarci dietro il colore che abbiamo lasciato in sospeso quindi finito il secondo giro vedete in questo modo adesso il questo giro qua ci porteremo dietro poi il filo che abbiamo in sospeso quest'altro colore se lo fate anche voi a due colori sia che lo facciate con questo che con un altro colore ovviamente lavoriamo la prima maglia la lavoriamo a dritto normalmente ecco la seconda maglia prima di lavorarla passiamo il filo vedete che è sotto lo passiamo lo faccio vedere bene questo è il dietro del lavoro vedete questo filo dell'altro colore lo passiamo sopra il filo che stiamo utilizzando e poi facciamo il punto adesso vi faccio vedere facciamo la maglia a dritto normalmente tenendolo dietro ecco qua vedete in questo modo noi abbiamo chiuso questo poi lo potete ritirare per rilevarlo vedete dal davanti non si vede niente da dietro noi l'abbiamo chiuso vedete dentro questa maglina qua col rovescio qui questo modo non rimarrà fuori ciondoloni diciamo non rimarrà brutto all'esterno che si possa sfilare rimarrà dentro la scarpina e ce lo possiamo portare dietro quindi senza doverlo tagliare poi riattaccare quindi non continuate quindi a fare tutti i giri sempre a dritto sia sul dritto che sul rovescio saranno 10 in tutto e sul giro a su ogni giro sul dritto del lavoro passatevi sempre questa maglina vedete questa anche sul prossimo la farete il rovescio lo lavorate normalmente il dritto come abbiamo fatto ora la fate sempre passare sopra ecco qua fatti 10 giri di questa maglia legaccio vedete dovete avere 1 2 3 4 e 5 il quinto sul ferro di questi giri a rovescio sul dritto del lavoro che sono 10 giri a maglia legaccio adesso iniziamo a fare il piede e anche qui adesso io vi faccio vedere come fare a lasciare il sopra qui del piede in tinta unita come ho fatto io in modo che se anche lo volete fare ad esempio a due o più colori vi faccio vedere come portarvi dietro il colore allora io adesso qui dovrei fare 14 dritti però ne farò 9 con il colore sfumato e 15 col tinta unita e questo qui per portarmelo dietro farò in pratica lo stesso modo allora facciamo un dritto poi lo passo sopra e faccio un altro dritto e sono due e me lo porto qua poi il terzo lo faccio ancora normale il quarto lo ripasso indietro vedete da da come l'avevo prima sempre passandolo sopra lo ripasso e cinque vedete qui si vede perché adesso non è tirato attenzione a non tirarlo troppo perché vi si increspa però vedete poi va dietro quindi avete sono quattro quindi una sì e una no cinque quindi qui adesso lo ripasso sopra da questa parte vedete in modo che sia proprio sopra il ferro sei sette due quattro sei sette adesso lo riporto indietro in questo modo otto vedete sembra quasi che sia qui però vedete se lo tirate va dietro otto e nove ecco qua due quattro sei otto e nove punti e lascio adesso lo sfumato qua e proseguo con il tinta unita e faccio ancora 15 dovevo fare 24 scusate 9 più 15 sono 24 in tutto quindi 24 6 8 9 poi 1 2 3 allora il questo sfumato lo lasciamo qua è quello non lo toccate più e qui adesso abbiamo 15 dritti con l'azzurro quindi 24 6 8 10 12 14 e 15 15 di poi faccio una maglia passata quindi il filo lo lascio dietro passo questa maglia qui senza lavorarla poi faccio un dritto e a cavallo questa maglia qui quindi faccio un accavallato su questo lato lo ripasso sul ferro di qua vedete sempre tenendo in questo modo il filo dietro il giro e lavoro quindi non lavoro le ultime maglie poi le lavorerò dopo e ne devono rimanere 2 4 6 8 10 12 14 e 15 adesso ne ho di qua lavoro a rovescio quindi questa l'ho rimessa qua lavoro a rovescio 1 2 quindi la prima maglia l'ho ripassata di qua più 2 4 6 7 rovesci e poi due maglie insieme a rovescio quindi prendo due maglie insieme e la lavoro insieme a rovescio ecco qua la stringete bene poi sempre col filo verso di noi la rimettiamo qua e giriamo il lavoro quindi qui adesso la prima l'ho passata e poi faccio una due quindi 6 e 7 sempre 7 nel lavoro sempre la prima la passo e 7 dritti poi sempre passo questa qui dove ho già fatto l'accavallato prima faccio un dritto nella maglia successiva e a cavallo questa maglia qua ecco qua in questo modo quindi ripeto sempre questi passaggi ancora per cinque volte finché non rimango con 10 maglie per lato quindi la prima la ripassiamo e queste facciamo sempre 7 rovesci ora vi faccio rivedere l'ultima volta poi lo ripetiamo finché non rimaniamo con le nostre sette maglie centrali più le due passate quindi allora passata 2 4 6 7 rovesci e poi sempre il filo verso di noi questa che avevamo già infatti le due maglie insieme prima facciamo ancora due maglie insieme con la successiva ecco qua poi sempre col filo verso di noi la ripassiamo e giriamo vedete in modo che venga questa treccina qua così vedete azzurra e consumiamo in pratica una maglia quindi ripetiamo sempre quindi la prima è passata più 7 lavorate e l'ultima passata la lavoriamo con una nuova del corpo e la cavalliamo quindi ripetiamo sempre questo passaggio finché non rimaniamo con le nostre sette in tutto sono nove perché sono la maglia due maglie passate più 7 9 qui più 9 e 9 su ognuno dei due lati quindi finché non ci rimarranno 9 maglie di qua e 9 maglie di qua da lavorare continuiamo a ripetere questi due passaggi consumando sempre una maglia di qua e una maglia di là ad ogni giro